Beh, mi piacerebbe molto, ma vedi io ho il corpo e la mente in pessime condizioni. Questo non è da te, nonno! Come puoi arrenderti così davanti a un mostro del cielo? Sai una cosa, ti farò vedere la tua nipotina per l'ultima volta prima di eliminarti. In fondo sono pur sempre un drago delle sfere, o anch'io la mia sensibilità. Quindi ho deciso di esaudire il tuo desiderio. Ti dispiace separarti da lei, vero? Svegliati, nonno! No, vi prego, non puoi arrenderti così! Che ne sarà della terra e degli esseri umani? Sei l'unico che possa proteggerli, non abbandonarli! Basta così, vi ho concesso fin troppo tempo, salutatevi adesso. Devo dare il colpo di grazia a tuo nonno, se permetti, quindi torna dentro. Oh, nonno, aiuto! Oh, nonno! Fermo, che fai? Hai abbassato la guarnia e io non aspettavo altro per approfittarmi! Che cosa? Sto tranquilla! Non è possibile, non ci credo! Ciao, nonno! Grazie a tutti